Qui, presto! Credi che non possa farcela? Non ho neanche sudato. Presto, dobbiamo spiegarci. Però, ha coraggio davvero. Credi che non ci sia. Credi che non ci sia. Credi che non ci sia. Guarda e impara Ezio Lo chiamiamo aggancio e fuga Corri verso l'avversario e appena lo raggiungi Usa la lama uncinata per superarlo Ottimo Eccellente Ottimo La normale lama uncinata ottomana A due parti, vedi? L'uncino e la lama Quindi puoi usare l'uno o l'altra Progetto elegante Ti va una sfida più impegnativa? Sta bene, andiamo Ti stai divertendo? Esatto Lascia che sia la lama uncinata a lavorare Molto bene Cerca di fare del tuo meglio Benvenuto a Costantini e Ezio Il crocevia del mondo Molti uomini hanno governato questa città Ma non l'hanno mai soggiogata Lei li ha sempre respinti Sembra un bel posto da chiamare casa Lo è! Vediamo chi scende prima? Sono colpito, Yusuf Ai confratelli di Roma piacerebbe molto Onore al merito, come si dice Yusuf, vieni, presto Eh? Un attacco su due fronti Galata e Gran Bazar Ogni giorno brutte notizie Hai voglia di tirare un po' di spada? Faccio quello che devo Ben detto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti